Lupi intorno alle case e allevatori sotto attacco, il proliferare indisturbato della fauna selvatica, oltre a recare danni alle attività agricole, è diventato sempre più un pericolo per gli animali. Se ne discute ormai da tempo, ma il lupo è considerato una specie protetta e non è semplice intervenire. Di certo però bisogna fare qualcosa adesso, prima che la situazione degeneri ulteriormente. Mi è convinto il consigliere regionale Giacomo Rossi, che dati alla mano ha contato almeno 20 attacchi negli ultimi 60 giorni solo nelle province di Ancona e di Pesero Rubino. Siccome ero stato accusato di dover leggere i dati, io ho portato i dati, dati dall'evidenza, cioè ho raccolto tutte le cronache di questi ultimi due mesi di attacchi, avvistamenti di lupi, attacchi nei confronti di animali domestici o animali d'allevamento o avvistamenti intorno alle case o alle città. Ecco, che cosa è emerso? È emerso che i censimenti e i dati ufficiali dicono una cosa, la realtà è un'altra, che c'è una presenza molto importante di lupi o di lupi ibridati, per me è la stessa cosa, che però va controllata. Dalla costa all'entroterra sono stati sbranati sia capi d'allevamento che animali domestici, come cani e gatti, episodi che hanno di fatto aumentato la preoccupazione generale. Questi lupi oramai si sono antropizzati, oramai fanno parte della nostra fauna e quindi in qualche maniera bisogna controllarli, come si controllano i cinghiali, come si controllano i caprioli, bisognerà cercare di avviare un controllo anche per questi animali. Quindi quali sono le sue richieste? Allora, controllo che non significa sterminio, questo è ovvio che va detto, però bisognerà cercare di attuare qualche piano, come viene fatto in qualche altro paese dell'Unione Europea, per dire in Germania, dove ci sono stati dei piani di contenimento a fronte di situazioni come analoghe alle nostre. Ma da chi era stato attaccato? Ma da un certo mondo ambientalista che vede il lupo, quale animale inattaccabile, un qualcosa che non può essere contenuto, non vedo perché debbano esserci animali di serie A e di serie B. Quindi io ho proposto, per far fronte a questa situazione, delle lettere all'assessorato competente. Mi hanno chiesto di avere il coraggio di presentare la proposta di legge dell'ex consigliere Talè, nella quale si chiedeva un contenimento di questo lupo, la sto valutando. Non è possibile che nel 2021, nell'Interlandifano o nei nostri paesi, dobbiamo avere paura di tenere un cane legato alla catena perché c'è un lupo che va là e lo mangia. Insomma, è una situazione intollerabile. Ecco, non vorrei che dovremmo intervenire quando poi succede la tragedia, spero di no. Ecco, io vorrei preventivare e affrontare seriamente la situazione.